un'atmosfera un mix di situazioni tale che poi sfociasse in una in una diciamo stagione assolutamente florida assolutamente ricca di talento di creatività allora io adesso devo fare ecco voglio fare una piccola premessa alla mia conversazione l'italia fa parte di un gruppo di paesi nel mondo definiti design leader ma mentre altri hanno vissuto la nascita del design in accordo con i tempi in modo diciamo coerente col tempo storico nel novecento in ottocento ed inizio novecento poiché erano già degli stati nazionali e con un'industrializzazione compiuta alle spalle per l'italia questa vicenda si è compiuta dentro un percorso molto più accidentato e complesso poiché il rapporto tra produzione e cultura tra industria e modernità tra società industriale e cultura moderna estetica moderna arriva in un paese che in pieno ventesimo secolo non ha ancora compiuto la sua rivoluzione industriale né ha un'identità chiara di stato nazione ne possiamo rimuovere il fatto che il tema della modernità in italia nasce in era fascista fatto che ha impresso alla sociologia allo studio scientifico all'analisi della modernità come l'abbiamo conosciuta negli studi teorici scientifici e sociologici comunque ha impresso una narrazione ideologica che ha deformato tutto che che ha in qualche modo diciamo creato una 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 maschera che non permetteva di capire bene cosa stava succedendo veramente nell'ambito della cultura del design della formazione del tema di cui stiamo parlando il fenomeno del made in italy fa giustizia di tutto questo intreccio piuttosto diciamo non bello diciamolo così visto che la storia ha giudicato quel periodo fortunatamente che non credo tornerà mai più recuperando il tempo perduto e creando un pezzo importante di una nuova identità nazionale qui avete riconosciuto questa immagine questa è un'immagine insomma è l'immagine di un sito di un luogo abbastanza mitico molto importante l'architetto carlo scarpa un grande architetto italiano e anche famoso nella storia dell'architettura moderna progettò questo negozio questo è la marca del negozio olivetti progettò questo negozio per l'azienda olivetti a venezia nel 1957 questo progetto affronta due sfide uno doveva essere la vetrina di un'azienda che ha fatto la storia dell'industria del design nel mondo due inserirsi in un delicatissimo contesto storico unico al mondo cioè piazza san marco a venezia di situazioni così in italia ce ne sono perché l'italia ha delle piazze strepitose le piazze però diciamo credo che nel mondo contesti così particolari non ce ne siano molti perché qui siamo dentro al negozio questo negozio ormai è un museo e ci si può essere visitato per appuntamenti anche un piccolo prezzo di ingresso perché io vi faccio vedere con comincio questa conversazione sul design italiano e sulla cultura italiana con questa immagine perché ho scelto quest'opera perché è un emblema della cultura italiana perché una rara sintesi di arte architettura architettura e design inseriti in un paesaggio urbano unico al mondo possiamo dire che questa è una delle non lo so saranno delle 150 non so opere al mondo che hanno una particolarità così rara nella cultura italiana la sintesi delle arti la sintesi delle arti è un approccio alla creazione autentico molto no molto italiano non sarà solo italiano ma sicuramente è molto italiano e deriva da un mix storico profondo che è nato addirittura nella roma classica nel roma di giulio cesare di orazio video è sviluppato nel rinascimento un'italia che era fatto di città stato o città mondo come roma firenze venezia come era anche città mondo amsterdam come poi è stata parigi come oggi new york e di però sono quelle città che hanno il potere di raccogliere tutta di sintetizzare tutta l'economia la cultura la scienza il comportamenti e le innovazioni del mondo in quel momento in una sola città e poi c'è anche un'italia fatta di territori che è un'italia sicuramente più frammentata più molecolare ma ricca di brillanti risorse un'altra impostazione metodologica che voglio dire è molto semplice l'arte l'architettura e il design nascono per dire per la cultura per la letteratura potrebbe essere la stessa cosa comunque nascono e si sviluppano grazie all'intreccio di vari fattori di natura sociale economica culturale e tecnologica molto complessa questa è un mix molto complesso stabilire le cause esatte nella genesi di un'opera in un mondo sempre più interdipendente è un'operazione ormai piuttosto ardua e difficile tuttavia quello che ho ritenuto giusto e interessante è stato dimostrare al pubblico ossia le persone che gentilmente hanno aspettato con noi ma ci stanno ascoltando alcune dinamiche culturali importanti che ho voluto mettere in relazione con la nascita del grande design italiano e che in qualche modo hanno fatto comunque parte di un fenomeno sociale culturale e di costume un fenomeno che in pochissimo tempo è diventato un brand del nord in tutto il mondo il made in italy allora inquadro da un piccolo inquadramento storico di diciamo che cosa trova un viaggiatore che venisse in italia a scoprire le origini del made in italy cosa trova storicamente in quel momento lì abbiamo tre pilastri di una società l'industria l'agricoltura e la formazione e la cultura quindi primo abbiamo l'italia dell'industria questa è la fabbrica della fiat è stata realizzata da un architetto da un ingegnere bravi un genio bravissimo si chiama mattè trucco questa è questa fa parte del della storia dell'architettura di tutti i tempi questa questa fabbrica soprattutto la rampa di accesso verso la pista di collaudo delle automobili io ho avuto la fortuna e il privilegio di guidare una fiat su questa rampa su questa su questa pista e molti anni fa da molti anni or sono e abbiamo un'italia contadina che era la maggior per la maggiore caratteristica dell'italia a quel momento lì la nostra agricoltura e abbiamo una cosa molto importante invece che invece ci riguarda che l'italia della formazione nasce l'italia che studia per l'industria questa immagine che vedete è una via è la villa reale di monza e ed è un'immagine del 1928 dove nasce la prima isia in italia il cui acronimo significa industria istituto perdono perdono istituto superiore per le industrie artistiche la prima università delle arti decorative in questa scuola hanno insegnato giuseppe pagano edoardo persico marcello nizzoli allora ho messo questa diapositiva apposta per i gentili ascoltatori soprattutto ascoltatori servi che giustamente si chiederanno ma chi sono queste tre persone chi erano giuseppe pagano persico e perché insegnavo in una scuola di progettazione per l'industria queste persone non erano personaggi qualunque queste persone erano degli intellettuali del calibro di grocchius potevano assolutamente competere con le corbusier commissima ero dei grossissimi intellettuali ne ho fatto una brevissima presentazione intanto giuseppe pagano è l'architetto che ha realizzato la facoltà di fisica all'università di roma intanto il redattore della rivista casa bella che è la più importante rivista d'architettura al mondo credono forse lasciate tutto su due potrebbe competere o dopo comunque è una rivista che fa cult che fa storia che fa che fa tendenza a livello mondiale architetto scrittore filosofo fotografo una delle più importanti menti italiane figura di intellettuale innovatore morto in campo di concentramento nazista per la precisione storica va detto che giuseppe pagano culturalmente nasce nasce aderisce al fascismo in gioventù a una crisi tribù del fascismo è però questo gli accorsato la vita ha realizzato l'edificio della facoltà e redattore della rivista casabella quello che vedete sono un arredo da lui progettato edoardo persico ha una profilo analogo in uno dei più importanti intellettuali italiani grande innovatore morto mi sono sbagliato non vedo 30 morta quasi 40 anni è morto in circostanze oscure e pare che sia stato ucciso da fanatici fascisti eccetera anche lui redattore della rivista poi marcello nizzoli era praticamente una persona geniale è quello che ha inventato il prodotto dell'olivetti marcello nizzoli era un autodidatta non era andato a scuola ecco però ha fatto scuola è stato con adriano olivetti per tutto il tempo ed è quello che ha impresso diciamo alla produzione dell'olivetti una qualità una creatività ed una capacità anche abilità tecnica che diciamo per l'epoca era assolutamente straordinaria queste questo per dire che nella scuola d'arte di monza è come se avessero insegnato gropius e le corbusier mis bandero uguale perché sono personaggi che riconoscevano oltretutto erano assolutamente informati di tutto quello che succedeva oltre le alpi e quindi alla preside del ventesimo secolo l'italia si presentava con un paese pressoché agricolo con una debole industrializzazione concentrata soprattutto in grandi aree urbane milano torino genova con l'avvento del fascismo nella storia del novecento il regime fascista si era posto come scopo il compito di modernizzare l'italia la genesi del fascismo è una cosa che sarà studiata tantissimo non ha molti misteri come adesso io devo andare il mio scopo non è questo però voglio far capire che ho indagato anche questi fenomeni l'italia sia in termini industriali che come tenore di vita cosa che tuttavia rimase sempre molto al di sotto della soglia europea nonostante la propaganda in definitiva nonostante gli sforzi le proposte di pianificazione qualcosa di importante fu comunque fatto le bonifiche dopo la crisi del 1929 che coinvolge tutto il mondo allora fascismo che creò l'iri l'istituto di ricostruzione italiano che insomma attraverso il sistema concertato tra banche e industrie e riuscì a fare una serie di cose importanti molto importante l'italia si presentava con un paese parzialmente industriale inoltre l'industria era estesa sul territorio nazionale a macchia di leopardo il paese necessitava ancora di infrastrutture moderne edificio che vedete è il palazzo della giornale di milano la partecipazione al secondo conflitto mondiale ha messo perciò a nudo tutte le debolezze di un sistema che era lo specchio di un paese ancorato da dimensione molto modesta della modernità nonostante l'italia potesse vantare alcuni da più importanti intellettuali scrittori musicisti artisti architetti insomma scienziati che in quel momento diciamo erano assolutamente sulla cresta dell'onda a livello della comunità scientifica e artistica del mondo però la maggior parte poi scappati a causa delle leggi razziali non essendo un paese estratore non avendo ma delle prime né energia bensì essendo un paese trasformatore siamo stati sempre esposti duramente al mercato tuttavia l'italia ha sempre scavato in profondità nelle proprie tradizioni riuscendo in prima erano segni importanti nella storia della cultura materiale quando successivamente poi dopo la guerra l'italia è entrata in contatto con un mondo tecnologico vero e non finto come avevamo noi durante il fascismo capace di fare la differenza è riuscita a rendere quella storia rivisitata tecnicamente molto apprezzata e molto riconosciuta molto appetibile all'estero proprio grazie anche alla sua multilateralità e numerose sfaccettature e alla sua genesi della sua genesi alcune sorgenti culturali e figurative del made in italy il futurismo la rottura col passato la libertà la creatività movimento l'avanguardia futurista è stata una delle sicuramente dei precedenti storici importantissimi per la cultura immaginativa del design il razionalismo ed architettura il pensiero della complessità e della città anche qui un altro diciamo componente potentissima perché l'italia ha avuto un movimento razionalista di livello mondiale gli archivetti razionalisti italiani erano non a caso non a caso sono stati studiati poi gli anni fine degli anni settanta inizio degli anni ottanta sono stati recuperati da tutto il movimento del archivetti specie negli stati uniti perché effettivamente erano degli architetti diciamo di una grandissima qualità altissima qualità l'autarchia è il laboratorio nazionale del fai da te parleremo di questo aspetto che è molto strano e molto caratteristico successo solo in italia in quel periodo storico lì c'è chi in italia soltanto in italia ha potuto diciamo generare una certa situazione di cui poi parleremo l'artigianato industriale la cultura del fare e l'industria poi analizzeremo uno per uno la figura di adriano olivetti perché esistono delle persone che sono dei giganti che sono diciamo riescono ad essere a catalizzare come dire il sentimento di un'epoca di un tempo e quindi diciamo adriano olivetti era un industriale che comunque è riuscito a imprimere nel mondo industriale un qualcosa di più profondo di una semplice diciamo proprietario di una fabbrica ma lui ha creato una visione una visione di società di comunità bruno munari altra figura forte grande che si è posto come punto di riferimento da sempre a partire dalla guerra dal dopoguerra in cui il design ha portato una ventata di grandi significati creativi di libertà creativa di lui ha anche aderito al futurismo poco però inizialmente ma insomma diciamo però la cosa importante che lui diciamo è riuscito a divulgare perché era anche un professore un sistema creativo un modo di vivere creativamente insomma poi ho voluto inserire questa cosa qui qui tengo ma insomma il pensiero critico la critica politica alla alla merce perché effettivamente eh questa è venuta successivamente al al made in Italy conclamato già negli anni settanta fine sessanta settanta però questa cosa ha contribuito a creare un'identità una fisionomia un profilo del design italiano proseguo se vado troppo veloce vi prego di farmelo notare poi regolo allora il futurismo il sentimento futurista del mondo il sentimento futurista del mondo meccanico del movimento del dinamismo del colore forte e reinventato dell'azione della dissacrazione della possibilità infinita data dal coraggio del dell'invenzione e l'ironia e la sinestesia delle arti il il futurismo è stato il laboratorio del linguaggio e la sperimentazione totale comunque il futurismo fu storicamente la prima avanguardia di tutte le avanguardie perché uscì sulle figaro a parigi un giornale francese nel 1909 quindi il 20 febbraio quindi diciamo abbiamo la palma della prima avanguardia storica sapete che le avanguardie benché dicessero in qualche modo tutti le stesse cose si accapigliamo l'unco l'altro c'era un grande conflitto ideologico la città futurista queste sono immagini che tutti tutti i studenti di architettura tutti i studenti di design tutti i studenti d'arte chi lavora nel settore espressivo comunicativo e poi mi spero mi auguro anche a altri settori conoscono la città futurista di antonio sant'elia morto nel 1906 questo questo era un ragazzo che ha costruito città mentali cioè che hai immaginato città del futuro diciamo proprio in età veramente giovane comunque è un grosso riferimento quindi anche a c'è chiaramente il futurismo in architettura aveva vari vari chiatone bragaglia sant'elia insomma ho messo queste immagini perché questa immagine benché successiva su benché successiva all'opera di sant'elia però questa è l'immagine classica iconica mondiale che rappresenta l'immaginario urbano dell'epoca del primo novecento la prima dei primi decadi del novecento sia che fosse futurista che fosse espressionista ed è un fotogramma della del film metropolis di fritz lang grande regista espressionista metropolis sono film espressionista parla del rapporto dell'uomo con la macchina parla del rapporto dell'uomo con la vita parla del rapporto dell'uomo con la morte è un capolavoro insomma un film che ha definito diciamo una linea di demarcazione dell'immaginario filmico e la cosa importante che c'era proprio questa immagine di città cioè praticamente quella che poi sarebbe diventata la città effettiva contemporanea allora l'architettura futurista l'installazione futurista questo è il padiglione è il padiglione è una fiera e questo è il padiglione che è fatto con l'artista fortunato de pero un nostro grande artista diciamo delle delle di una casa di un gruppo di case di tirici bestetti tuminelli e treves questa è un'opera che per allora si è un'opera della della pop art sembra sempre fatta ieri a una delle caratteristiche effettivamente diciamo selvagge a livello figurativo ma soprattutto a livello concettuale l'idea di creare degli spazi costruendo diciamo attraverso un'architettura tipografica e la cosa interessante che anche il dentro era fatto così perché il sedile era una lettera tipografica quindi vedete il futurista il futurismo ha proprio mandato dei messaggi che sono rimasti che hanno che hanno lavorato in qui in qui nei decenni successivi no allora il futurismo da alla sonnata vita culturale italiana un'incredibile sversata dinamica soprattutto ha avuto il merito di espandere un discorso estetico e artistico nella vita quotidiana intuendo così il passaggio dall'arte dell'estetica alla vita vita quotidiana vestiti arredi musica grafica letteratura comportamenti diceva rambò bisogna essere assolutamente fuetra sull'imano del bisogna essere assolutamente moderni questo po di tempo prima e qui e per i futuristi di essere assolutamente totalmente futuristi sposare la causa del futuro di tutti i suoi segni e simboli immaginari in modo radicale the street will be our gallery questa era la diciamo lo slogan uno degli slogan futuristi vedete che il vestito di qui si vede che il giret futurista di De Pedro no? questo aspetto dell'applicazione dei linguaggi artistici alle molte forme di cultura materiale presenti nella vita quotidiana e sociale è stata sicuramente una caratteristica forte delle avanguardie artistico culturali del primo novecento di tutte le avanguardie e in particolare del futurismo cioè qui nasce il discorso del rapporto arte vita nei primi decadi tra il 1900 e il 1917-18 nasce questo discorso che l'arte la rappresentazione artistica non doveva essere staccata dalla vita doveva essere un pezzo della vita o quanto doveva applicarsi a tutte le declinazioni della nostra giornata quotidiana tutte le nostre attività quotidiane questo è un armadio di Giacomo Balla un separé un paravento di Giacomo Balla quindi diciamo queste sono delle rarità insomma vedete nella loro semplicità sembra un armadio normalissimo che viene applicato però questo armadio se volessimo fare forse non c'è tempo ma se volessimo fare una lettura semiotica di questo armadio sarebbe interessantissima e leggendo questo tipo di cose che poi secondo me Alessandro Mendini ha prodotto le sue poltrone diciamo la sua diciamo la sua riabilitazione riabilitazione e rigenerazione di alcuni segni del passato in chiave questa volta post moderna proprio leggendo queste cose allora questa sedia la sedia futurista è stata fatta non disegnata fatta da un poeta un poeta napoletano Francesco Cangiullo che si chiama Zang questo arredo che diventa l'emblema dell'attuale mostra anche se di esse non esistono testimonianze grafiche la sedia Zang si proponeva come briose alternative alle linee retrograde di quegli arredi definiti tristi funebri glaciali e sempre chiuso in un mutismo da sarcofago perché il futurismo nasce come reazione in un'Italia lenta tarda esageratamente prudente esageratamente conservatrice in un'Italia che infatti non ha neanche fatto la rivoluzione industriale in Italia non vede diciamo la la classe dominante italiana di allora non vedeva una rivoluzione industriale vedeva mostri meccanici era spaventata no anche perché ci dimentichiamo che l'Italia è la sede del Vaticano l'Italia è la sede di grandi di grandi latifondisti grandi proprietari terrieri dell'aristocrazia quindi ciò che è stato risolto con la presa della Bastiglia 130 anni prima l'Italia se lo portava 130 anni dopo parliamoci chiaro quindi noi arriviamo con un ritardo enorme ecco però voglio farvi vedere anche diciamo come il futurismo riuscì a imprimere agli artigiani agli artisti delle cose di allora diciamo un'energia che portava quindi ad una rielaborazione totale del mobile una rielaborazione diciamo che non faceva come dire affidamento in nessuna in nessuna tradizione storica era completamente nuovo cosa che comunque è attività ben difficile vado a rapidamente su queste cose questo è un vestito di balla che sono delle immagini proprio classiche del ecco alcuni esempi di abbigliamento futurista quindi per dire che loro non scherzavano loro ci credevano veramente insomma sono un po' ingenui certamente insomma però insomma è per testimoniare di quanto il futurismo è riuscito a imprimere a tutte le attività della vita sembrava obiettivamente un processo di design arredo abbigliamento meccanica macchine qua pittura arte architettura quindi era veramente era si era diciamo era un movimento che ha applicato un immaginario del futuro a tantissime a tantissime zone dell'espressione aree dell'espressione ecco il famoso giubbotto che portava il gilet futurista giubbotto il gilet giubbotto riservi boccioni e solide però stile di vita queste le cose anche in architettura c'erano poi degli architetti brevissimi veramente angelo mazzoni era un ingegnere ed era stato l'ingegnere delle ferrovie dello stato e lui è rimasto famoso per aver fatto e tante cose ma fra cui una serie di installazioni tecniche nella stazione di roma la stazione di firenze in tante stazioni importanti d'italia creando delle architetture assolutamente futuriste quindi insomma per dire l'italia il futurismo ha lasciato un segno ivo pannaggi era un un artista cosa fai io pannaggi aveva diciamo lui era stato nel 1926 aveva fatto una visita niente meno che al bauhaus di Dessau era andato in germania a Dessau un artista futurista a vedere il bauhaus era rimasto colpito dall'arredo così così industriale così semplice così minimalista aveva comprato una di queste poltrone fatte da marcel broyer l'ha portata a macerata per cui era di macerata e e ha cominciato a rielaborare sui segni diciamo che aveva visto nel bauhaus no questo è un tavolo che ha fatto lui per una casa della 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 sorella e il futuro marito insomma ecco io per un arredo futurista poi abbiamo un altro grande grande riferimento culturale il razionalismo il movimento razionalista italiano miar ha rappresentato una dilinazione della filosofia progettuale nord e mitte l'europea estremamente interessante offrendo alla storia alcune realizzazioni nomi eccellenti come terragni cattaneo figgini e pollini al mio domenico pica pietro bottoni il gruppo bbpr de renzi e altri insomma no questi nomi che io leggo così in velocità in realtà sono dei giganti dell'architettura sono tutte persone che hanno compiuto delle opere sono rimaste nella storia dell'architettura gli stessi architetti razionalisti erano sorpresi che in italia paese provinciale di secondi diciamo di fascia b rispetto alle potenze della francia la germania l'inghilter potesse invece produrre una cultura architettonica di un livello così raffinato la stessa città razionalista perché dovete sapere che poi vicino roma nell'agro cosiddetto agro pontino cioè nella campagna vicino roma alcuni urbanisti d'avanguardia realizzarono di sana pianta da zero delle città che poi sono state successivamente studiate sempre negli stati uniti e hanno diciamo copiate perché l'impostazione urbanistica con anche un'impostazione architettonica era dava qualcosa che riusciva a dare l'immagine forte della città ma anche a una scala umana insomma adesso non è il caso dire di approfondire però per dire che per esempio il piano regolatore della città di sabaudia rimane uno degli esempi internazionali diciamo importanti dell'urbanistica dell'epoca abbiamo giuseppe terragni questi io pari questo è un architetto che zora conosce molto bene e la casa del fascio a como como una città che una tradizione architettonica e costruttiva di secoli è una città molto importante molto importante e qui in questa città giuseppe terragni anche lui ahimè morto giovane realizza delle opere eccellenti come questa casa del fascio realizzata sulla sezione aurea che aspetta che praticamente era appunto la sede rappresentativa della della dell'organizzazione del partito fascista nella nella città comunque fatto sta che se vedi vedi e vedendo la diciamo la la costruzione astratta e il traliccio e il composto a dire il la rete il traliccio delle delle strutture di questo di questo di questo cubo aperto diciamo si capisce benissimo che il manifesto del razionalismo italiano era un manifesto che non aveva nulla a che spartire con la filosofia diciamo del proprio committente invece una filosofia un po pacchiana fatta dei simboli classi giurio cesare i lupi la lupa le coi simboli di roma antica era questo infatti l'architettura loro erano attaccati attaccati da tutta la cultura benché in qualche modo aderissero il presumo così però erano attaccati tutta la cultura fascista perché non erano diciamo le opere razionaliste non diciamo non non erano come dire celebrative della 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 visione fascista della vita e della storia eccetera eccetera anche questo un piccolo capolavoro un asilo asilo sant'elia una stazione eccellente la stazione di firenze di giovanni michelucci un'opera importantissima anche con risvolti urbanistici interessantissimi voi capite queste forme in italia erano un po uno shock parliamoci chiari queste forme in italia erano uno shock era un colpo duro a una cultura diciamo provinciale quindi l'italia che era sostanzialmente un paese provinciale si ribellò anche però guardate cos'è la pulizia la chiarezza e la logicità di questa vetrata di questo atrio insomma di queste atrio questo corridoio passeggeri a parte che la stazione è rimasta così com'è e anche un piccolo dettaglio di design ci vuole per i passeggeri delle facili donna una seduta e un appoggia valigie io vado in fretta perché già abbiamo perso un pochino di tempo con la con il problema tecnico insomma nel momento eccetera eccetera qui parlavo del movimento nazionale italiano e c'è via dicendo luigi moretti un architetto di roma ha fatto delle opere importate a roma questo era la casa delle armi al foro mussolini cioè successivamente a questa ondata razionalista poi il fascismo li elimino non si rivolse più c'è lì 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 da bricolette lì lì diseredò perché la purezza di questi volumi la la capacità di captare il sole la luce di riverberare l'ombra di questa chiarezza cristallina proprio di volume sotto il sole sembra quasi le corbusie no non era 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 un mondo platonico non era un mondo antico romano non è che non riverberava i simboli del regime e quindi avebbero vita dura insomma no guardiamo questi sono queste diciamo è un'architettura assolutamente internazionale questa è la magnifica scarinata del fatto da alberto libera al palazzo dei congressi di roma nel 1938 gli architetti razionalisti dopo aver fatto un gran baccano dopo tante contestazioni e tante rimostranze ottennero dal governo fascista una una elemosina cioè di poter fare gli uffici postali quindi noi abbiamo a roma gli uffici postali in italia che sono dei capiccoli capolavori dell'architettura razionalista tra l'altro in questo caso qua c'è anche una memoria del futurismo con queste addirittura c'è proprio con questa tessitura diagonale questa vetrata questa vetratura addirittura diagonale quindi è una memoria futurista precisa e questa abitava vicino dove abitevamo noi a casa nostra a roma e l'atrio dove si svolge le funzioni del 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 delle poste era semplicemente meraviglioso non ho trovato un'immagine libera era bellissimo questa è l'immagine della cover figgini e pollini due architetti razionalisti villa studio per un artista alla quinta triennale di milano 1933 veduta del solario con la scultura di lucio fontana che poi darà vita allo spazialismo insomma quindi vedete queste immagini sembra un quadro astratto di proprio sono quadro del neoplasticismo la casa elettrica quindi voglio per vedere ecco la casa elettrica interno quindi l'architettura italiana sia l'architettura razionalista il movimento razionalista aveva studiato l'involucro il rapporto il rapporto con la città spazio esterno e città spazio interno e arredo arredo funzioni della funzione diciamo zona notte zona giorno è stata una una vedete questa è la la luce è la lampada quindi diciamo c'è uno studio sulla posso dire proprio su un equilibrio un equilibrio energetico tra i segni dell'architettura i segni dell'arredo e le funzioni che in esse andavano svolte che meraviglia allora il legame turbolento per razionalismo italiano e regime fascista si sviluppa per meno di un decennio per un decennio il fascismo non ha capito bene cosa facessero questi giovani e tutti i giovani tutti i ventenni venticinquenni prima dell'allontanamento di una questione fondamentale che troverà infine una risposta negativa cioè se e come l'architettura razionalista poteva essere la rappresentazione tridimensionali degli ideali della dittatura in cerca di identità e di monumenti chiaramente l'architettura il il messaggio fascista era un messaggio fortemente figurativo fortemente figurativo antico romano con la spada la cosa messaggio razionalista è un messaggio astratto è un messaggio spiritualista è un messaggio mentale quindi diciamo tra i due movimenti dopo un breve diciamo iniziale rapporto anche perché credo che Mussolini fosse in qualche modo non capendo niente perché vedete vedeva questi giovani rivoluzionari che srellavano cercavano la loro strada si facevano vabbè diamogli spazio lo che andava capito che non erano diciamo disponibili alla alla rappresentazione degli ideali della dittatura insomma li allontanano da tutte qualunque carica qualunque qualunque possibilità professionale anche qui mobili d'ufficio razionalisti negli anni 30 40 una cosa che faccio notare per esempio questo è l'impiego del vetro nella progettazione di interni fu una conquista del rapporto fra industria e progettista questi sono piani di vetro interi e che per allora diciamo nelle tecnologie della produzione del vetro di allora erano anche di tutto rispetto ma guardate qua questa è una grande vetrata in cristallo il famoso il famoso securit che ancora esiste o qualche anno fa ancora esisteva di quasi dieci metri per cinque nell'ingresso del cinema teatro universale di genova ideata realizzata dalla società enne visti eccetera eccetera nel 1940 ecco anche qui sono piccole diciamo sono delle installazioni degli arredi che fanno capire cosa come è fatto un atrio cos'è un in cinema allora io sono ancora di quella generazione lì nel senso sono ancora di una generazione che per me andare al cinema da bambino era andare non era un evento importante era un rituale importantissimo cioè se vogliamo fare un giorno una conferenza se la dottoressa non si si manterrà diciamo se ancora è d'accordo ma tra quello che si è diventato il luogo della cinematografia di una volta che era effettivamente era un emblema sociale è una ritualità sociale collettiva della comunità che andava al cinema quindi i cinema erano delle architetture fantastiche favolose e oggi il multisala fa parte di quella tipologia di luoghi che marco ci ha definito giustamente non luoghi cioè è una multisala è un centro commerciale è l'ufficio delle poste è un mobilificio ma che cos'è quindi la perdita di perdita di identità dei luoghi è una cosa che diciamo che noi architetti che effettivamente ci colpisce molto in modo particolare ecco arredi per la motonave da crociera italia che sono gli anni cinquanta per dire gli influssi del razionalismo poi qui abbiamo una cosa molto importante uno studio ecco uno studio gli architetti milanesi anche questi famosissimi banti del gioioso per essuti e rogers mi sembra che Luigi baffi morì pure in un campo di concentramento è tanto è vero che fece un monumento ai campi ai caduti nel campo di concentramento nazista monumento semplice guardando questo ma pensate che questo è un monumento francamente sembra strano non ci sono eppure diciamo questa anche questo è un manifesto è un monumento manifesto insomma nella sua strazione e quindi anche nella sua perché il cubo è il simbolo geometrico universale della costruttività della proiezione della costruzione della creazione quindi la nostra milano quindi la la torre velasca questa è una delle torri che hanno la torre velasca sta a milano come la torre efele sta a parigi cioè ognuno ha le sue torri però è una torre importante un oggetto molto importante della città mobili razionalisti del cinema italiano design di castone medin queste sono tutte scenografie del cinema quindi è interessante come il cinema anche vede il razionalismo vede gli interni vede la vita vede la funzione quotidiana del vivere attraverso l'arredo franco albini io siccome erano tutti architetti che hanno fatto delle cose preziosissime e ovviamente il razionalismo ha avuto un peso forte nella costruzione del design mi sono permesso di portarvi esprimere anche diverse personalità insomma tanto per far capire che cosa quale quale mondo stavano disegnando allora gli architetti razionalisti per cui per cui costituirono uno stimolo poi per altri architetti odesiani che dettano vita al fenomeno del medinità esempio questa è molto medinità è molto è molto italiana questa cosa il tavolino che si prende con una maniglia ecco questo questo sicuramente nella sua anche un po banalità senza molto semplicità insomma infatti degli anni cinquante già un po più avanti però questo aveva già a capire che il design italiano sta a ha riletto le storie del futurismo e della pittura cioè ha riletto una serie di comportamenti che sdrammatizzano l'oggetto sdrammatizza mentre invece qua in questo libreria di cegliano domenico pica architetto razionalista l'arredo viene drammatizzato perché il pilastro che tiene il piano di vetro eccolo qua di un intero piano di vetro e quindi a 1940 cioè quindi questi sono 70 60 80 anni fa questo è drammatizzante perché il preso che lo tiene una scultura è un rilievo sul legno quindi diciamo la scultura prende un peso forte un peso un'immagine forte insomma no tavolo allungabile sempre col piano di vetro ignazio cardella un grandissimo architetto italiano forse di una mezza generazione un po più avanti ecco però per far vedere la pulizia e la meraviglia di questa maniglia insomma no Cesare Cattano è un architetto molto giovanissimo che però ha lasciato delle opere veramente straordinarie di architettura razionalista lo volevo mettere a voler far conoscere al pubblico anche questa figura di questo raga è morta non so era avuto 25 28 anni non lo so molto giovane insomma ed ecco ha realizzato alcune cose il rapporto che c'è fra il disegno e la realizzazione casa d'affitto cernobbio Cesare Cattano 1938 39 ha avuto anche il tempo di progettare e realizzare un asilo anche lui come vedete il razionalismo si occupava diciamo a parte qualche mecenate rarissimo che credeva in una visione razionalista architettonica moderna e si sono dedicati alle opere pubbliche insomma voglio chiù conchiudere la parte razionalista con questa figura molto particolare Gio Ponti che è un architetto che tutti odiano perché è un architetto che odiano non è vero tutti riferiscono e stimano però voglio dire un architetto che diciamo che era il contrario dei razionalisti mentre i razionalisti erano giovani rivoluzionari che non sarebbero mai piegato in una virgola del loro angolo retto che il travertino riverberava il travertino romano riverberava nel sole e faceva vedere la purezza dell'architettura quasi greca eccetera invece Gio Ponti era molto più flessibile e molto più diciamo adattabile era un grandissimo architetto anche designer molto più adattabile meno diciamo meno meno proclami meno diciamo era una figura meno intellettuale e molto più professione realizzativa insomma comunque era un bravissimo architetto questi sono dei mobili suoi degli oggetti di uno che manipolava le forme in modo molto interessante ha decisamente quindi è un architetto che merita di stare Bruno Zevi è comunque anche uno dei miei maestri Bruno Zevi nel vedere questo è il grattacielo Pirelli fatto nell'inizio degli anni sessanta a metà degli anni sessanta ad attualmente il palazzo della regione Lombardia o è stato sì è stato parlato di alcuni uffici comunque era il palazzo della Pirelli e di altre aziende comunque vedendo questo edificio disse è un mobile bar a scala gigantesca quindi lo demolì immediatamente quindi per dire che l'architettura ha una sua complessità anche di percezione questo è un mobile bar alto 100 metri insomma 150 non lo poteva vedere però questi sono delle delle invece degli ambienti partite da gioponti dei mobili invece dimostrano anche una sensibilità anche insomma comunque una sensibilità come dire anche intensa verso i materiali lo spazio le forme non era un architetto sicuramente molto capace vi parlo di un fenomeno che si chiama autarchia che è un'esperienza tutta italiana che in maniera profondamente diversa sicuro non c'è dubbio però anche questo ha contribuito a creare una mentalità del design italiano cosa è successo che per dare un messaggio di disapprovazione totale da parte della comunità internazionale cioè la società delle nazioni condannò l'italia per avere invaso l'etiopia e quindi promulgò un embargo nel 1933 i beni primari di armi di componenti di tecnologie di alimentazione e tesi cioè da quel momento gli italiani dovettero arrangiarsi e recuperare i beni di consumi dentro casa da qui nasce la parola autarchia out auto da sé fare da sé self e archie e potere potere a fare da solo allora diciamo questa questa embargo poi sto rivedendo storicamente non è stato così drammatico non è stato così diciamo ehm drassico per le per anni 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 è stato un embargo un po blanco però comunque c'è stato e quindi l'italiano la l'industria italiana dove dove trovava i materiali le energie i mezzi e dove dovevamo vestirsi e qui diciamo ecco si è scatenata una mentalità per cui abbiamo come dire abbiamo cercato e abbiamo come dire proprio rovistato abbiamo cercato in profondità in tutti i nostri diciamo tratti angoli della nostra diciamo natura della nostra realtà naturale artificiale tutte quei prodotti e quei ma le materie e quegli e quegli elementi e quelle energie che non potevamo comprare più all'estero allora guardate questa pubblicità mezza italia usa l'ital dado dado per il brodo il prodotto autarchico lievi che per la saporita cucina italiana uno slogan dice due etti di italianissima robbiola è un formaggio è un formaggio che si spalma sul pane due etti italianissima robbiola di robbio nutrono più di una bistecca straniera qui nasce un qualcosa che era in germe ovviamente nel fascismo non faccio proprio così esaltato di peggio i peggio vizi dell'italiano il fascismo era diventato virtù improvvisamente perché viene esaltata questa cosa no la penisola si scopre isola e non vuole diventare autosufficiente l'autarchia figlia delle sanzioni è una frustata per il popolo e ne eccita l'orgoglio gli italiani sono chiamati dal fascismo a consumare italia il regime alimenta il mito dell'autosufficienza è proprio un mito dovesse perché noi non eravamo niente sufficiente per cui il tè non c'è più viene sostituito con un'erba che si chiama carcadè il carbone non c'è più si sostituisce con la lignite la lana con il lanital si abolisce il caffè che fa male si dice si raccogliono gli stracci la carta le pentole di rame si sostituisce il cuoio con impasti vari si estrae il cotone con le fibre di ginestra le donne calzano scarpe con suore di sughero gli uomini di gomma senza volerlo anzi senza assolutamente volerlo l'italiano si scopre ecologista e ambientalista perché effettivamente diciamo in questo fenomeno tarchico italiano è stato definito un involontario laboratorio di idee anticipatore della green economy e potremmo aggiungere del contemporaneo recycle design del fenomeno dei makers e del rilancio dell'artigianato dell'integrazione tra prodotti industriali e tradizionali una questione che insieme al rapporto con la storia è il fil rouge un fil luce dell'architettura e della cultura dei design italiani così come inizia a configurarsi fin dal 1922 qui parla uno storico storico donelli michael sono io voluto fare questa citazione perché mi sembrava comunque utile per l'ascoltatore ecco vedete acquistate prodotti italiani il caffè desurrogati il caffè non esisteva più facciamo con la cicoria ormai insomma quindi diciamo ecco l'italiano deve trovare il modo per fare di necessità virtù e si fa bello di quello che non ha insomma riesce io in questa in questo settore ho voluto inserire un alcuni quadri molto importanti una cultura molto importante italiana che la pittura metafisica il novecentismo e la metafisica noi abbiamo avuto accanto alle avanguardie l'italia anche la germania ha avuto in germania si chiamava la nuova oggettività noi e sacli kite in italia era la pittura era il novecento e quindi diciamo era una pittura che rifiutava questa enfasi questa sbornia tecnologica sbornia del futuro e guardava un po le città per quello che erano veramente e quindi diciamo proponeva figurativamente diciamo una città fatta di monumenti che testimoniano del rapporto con la memoria e con il passato le piazze mediterranee di decilico con loro deserte ombre lunghe sono l'emblema di una narrazione che trova nel sogno e nel mito di una cessazione del tempo fatta di sensazioni e di ricordi la forza mitologica di un paesaggio figurativo e culturale assolutamente eccezionale e benché anche avanguardista erano dirompenti perché comunque decilico è stato il più grossi pittori del novecento decilico il fratello salinio erano figli di un ferroviere nati in grecia e questa era in ogni quadro di decilico c'è sempre una memoria della ferrovia insomma quasi sono quasi tutti i quali ombre ombre volumi chiari ombre archi cioè elementi semplici carichi di memoria e di inquietante inquietante e diciamo surrealisticità l'ho voluto mettere per far vedere che diciamo queste correnti artistiche sono state molto importanti e se non hanno influenzato il design italiano in modo diretto come ad esempio il futurismo anche se l'opera di aldo rossi l'architetto aldo rossi scomparso è profondamente ispirata a sironi ma sicuramente sono state ben presenti nel bagaglio psicologico e figurativo del progettista accolto italiano è impossibile non avere un avere un riferimento personale con i quali di decilico insomma o di sironi e questo è il progetto di cimitero di san catalogo era un concorso che ha vinto che vinse aldo rossi alla fine degli anni 70 quindi come vedete e recupera tutta quella che la figuratività popolare barra monumentale poi c'è un altro un altro fattore che ha influenzato il design italiano la cultura del fare i mastri di impresa questa è una cosa che bisogna parlare perché il maestro il maestro di impresa era quel tecnico quell'artigiano che era stato edotto ai meccanismi industriali che erano quella figura intermedia fra il progetto del design e l'effettiva fattibilità perché il design e si poteva anche diciamo un po prendere il largo di immaginare cose bellissime ma difficilmente fattibili a livello tecnico non ci dimentichiamo qui siamo agli anni 20 30 40 ma qui l'industria poi quella italiana in particolare non aveva questa grande sviluppo tecnologie insomma no già in tutto il mondo era così perché la prima della seconda guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale c'è un salto tecnologico non indifferente quindi questa figura del mastro di impresa era quello che praticamente diciamo operava in termini di logica realizzativa e di difesa estetica del progetto nell'affermazione di un saper fare italiano che supera la media degli standard del design internazionale perché questa figura contribuisce a creare qualcosa med il video risolve dei problemi tecnici che fanno una borsa di gucci piuttosto che di un vestito di armani piuttosto che di un di un mobile di castiglioni della lampada fanno un'opera eccellente perché è stato fatto in italia il me devo dire fatto quindi proprio è stato realizzato in quindi l'impresa italiana comincia negli anni 60 70 ad emergere come un grande realizzatore di qualità questa è la cosa importante nella storia artigiana in italia è una storia antica dico magistretti un architetto molto famoso dei padri del made in italy dice questo è convinto che il buon design nasca a metà strada tra chi progetta e chi fa la sua prassi progettuale prevede infatti un rapporto di necessaria collaborazione con le aziende esaminando il portfolio dei designer milanese si resta colpiti dal fatto che non vi trovo non vi si trovano spazio progetti non realizzati o diversi da quelli entrati in produzione questa è una notazione che non è banale perché molti architetti molti design hanno fatto dei disegni bellissimi ma non realizzati perché di difficile realizzazione il design italiano specie della sua accezione del made in italy non sarebbe mai potuto accadere senza il contributo di quella figura professionale dotata di un'esperienza suprema di una sopraffina cultura del fare proprio della manualità denominata mastro di impresa l'architetto professore vittorio gregotti recentemente scomparso analizza questa figura e queste competenze nel suo libro sul design italiano in modo esauriente non è un artigiano to cure né un tecnico delle macchine è una figura corta che dialoga con l'architetto e capisce perfettamente dove vuole andare a parare si è citando anche una didattica o anche maietica dell'intelligenza realizzati le mani pensanti una figura che oggi si sta perdendo progressivamente definitivamente insomma il computer asserciato alla fine della morte quindi nella qualità del confezionare un prodotto come per esempio questo calessino dell'ape degli anni cinquanta queste figure sono state figure cioè questo è un oggetto che mette insieme il mondo meccanico il mondo tessile il mondo elettrico c'è tutto quanto con un prodotto che deve essere deve avere quell'eleganza giusta deve essere avere quell'equilibrio giusto di eleganza che deve rapportare un oggetto al suo costo al suo farsi al suo consumarsi poi abbiamo questo signore qua è stato l'industriale e l'imprenditore più illuminato che abbia mai avuto l'italia apprezzato e studiato in tutto il mondo le innovazioni che ha portato ciò non toglie che è stato apprezzato sul venerato e però è stato anche combattuto perché per esempio olivetti forse pochi sanno che olivetti diciamo fu il primo industriale al mondo a produrre il computer da tavolo l'elea disegnato da ettore sozzas nel 1957 58 51 prima degli anni 60 che lui abbiamo l'olivetti fu invece il primo personal computer da tavolo quindi ce l'ho messa quindi per dire altro che visionario se gli americani quando olivetti si comprò la honeywell olivetti comprò la honeywell ragazzi cioè non era comprato un gigante e poi dovette rivenderlo gli americani dissero proprio ma scusate voi state svendendo un patrimonio tecnologico nel futuro e non c'è un membro del governo a a seguire questa trattativa le industriali americane si sorprendevano del fatto che questo poveraccio di olivetti era lasciato da solo abbandonato in un mondo di squali come è accaduto questo perché è ovvio perché una persona che sta investendo in un futuro tecnologico che si chiama computer da l'industria meccanica passa qua un'industria dell'elettronica ha fatto un investimento di miliardi c'è di cifre megagalattiche per cui olivetti si indebitò tantissimo però diciamo adesso questo per dire che è stato amato però è venerato ma anche contrastato come tutte le persone che hanno diciamo una 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 visione potente e attirano anche i nemici della reazione della conservazione eccetera eccetera le prime iniziative del riano olivetti nel campo dei dei servizi sociali di saldo da 1939 quando commissiona luigi figgini e gino pollini la costruzione di un asilo nido accanto alla casa popolare a borgo olivetti o questa è una sua frase la dice la fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti deve distribuire ricchezza cultura servizi e democrazia io penso la fabbrica per l'uomo non l'uomo per la fabbrica allora è chiaro che una di se il piano urbanistico di olivetti di brea insomma è chiaro che una persona così che si è circondato della crema della crema degli architetti design grafici poeti intellettuali giornalisti scritti di tutti i tempi del periodo chiaro che ha impresso al design italiano una marcia in più una forza enorme e ha fatto capire che l'industria essendo un concentrato di conoscenze di saperi di tecnologie ma quindi anche di saperi di scienza e tecnica ha un'intelligenza no cioè e quindi ha delle responsabilità perché insomma è chiaro che ha più responsabilità di un selvaggio introdita nel campo sociale perché è uno che sente vede e pensa e capisce e conosce quindi diciamo l'impatto di olivetti nella sfera culturale italiana è stata enorme ma poi ma anche l'impatto estetico per lui ha creato un'estetica i suoi il suoi io adesso suolivetti sono state fatte mostre musei cioè quindi non è che mi dilungo però diciamo la sua capacità di a saper attrarre le menti le vanguardie dell'epoca era era famosa era famosa questi questi manifesti hanno fatto la storia della grafica insomma hanno fatto del visual design insomma ecco questo è l'olivetti stabilimento nel sud italia lo stabilimento di nuovo stabilimento ivrea giovanni pintor giovanni pintori più grossi illustratori grafici insomma del periodo comunque la cosa interessante cosa succede quando c'è un committente illuminato committente che ti stimola a dare il meglio di te insomma queste sono figure che insomma si contano sulla punta delle dita proprio a livello mondiale quindi adesso io chiudo noi li vetti e passo a un'altra figura importantissima l'arte come messiere bruno monari l'artista più libero tanto spregiudicato quanto attento didatta perché lui insegnava e scriveva tanto scriveva tanto per per diciamo come educatori che ha avuto l'italia uno dei personaggi più significativi dell'arte del design internazionale del ventesimo secolo le persone le culture i designer le personalità gli scrittori che sono rifatti a monari sono tantissimi in tutta europa scrittore pittore scultore regista designer architetto professore la sua attività di educatore è stata fondamentale per la trasmissione di un design libero ma responsabile mai fine a se stesso uno dei personaggi più significativi dell'arte del design internazionale del ventesimo secolo questa io prendo queste immagini da una mostra sperimentatore poliedrico guardate su lama d'acciaio le fotografie sul lama d'acciaio insomma è veramente era guardava avanti proprio la persona così ha recuperato la lezione di riusciata sperimentatore poliedrico assolutamente ironico ha drammatizzato il ruolo e il lavoro creativo facendo capire come quest'ultimo sia una grande ma gioiosa responsabilità sono famose le sue sculture da viaggio e questo questo te la dice tutto il fatto che tu il treno in aereo in ai mai in pullman in auto usa così un'ora due ore tre ore hai del tempo da per ti costruisci delle sculture fai da te dire su dai dei pezzi di cartoncine o delle pre fustelle che si chiamano fustelle in italiano sono dei piccoli rischi piccoli diciamo tagli invisibili con cui puoi piegare facilmente costruisci delle delle forme sono sculture e educarsi educarsi alla forma come vedete uno scultore uno scultore un artista che spazia attraverso diversi campi questa è una mostra che è stata dedicata nel 2017 a torino curata dal suo rettore fico ecco un grande dissagratore adesso noi vediamo queste cose è una cosa normale prima vi faccio notare la grafica della pagina rossa che non è una cosa normale è interessantissima è una grafica che salti che proprio c'è è proprio diciamo ci fa capire come ogni ogni singolo angolo della produzione deve essere riempito da un discorso artistico discorso inter discorso diciamo creativo questo è molto interessante quindi noi queste cose ormai ci fanno ridere siamo abituati ma pensate 50 anni fa ragazzi 60 anni fa la lampada folkland degli anni 60 questa è stata realizzata questa lampada che è stata con dei materiali semplicissimi da cosa nel volume da cosa nasce cosa appunti per una metodologia progettuale del 1981 a proposito delle lampada folkland un'aria sottolineato le prerogative della fibra sintetica da lui usata la sua estrema leggerezza ad esempio la sua elasticità che ne consente la dilatazione dei nei punti in cui sono inseriti gli anelli metallici insomma c'è tutto il disegno italiano c'è tutto questo rapporto tra il sogno e il fare il sogno e la materia il sogno e le mani e questo ricorre un po dappertutto e questo è un po un qualcosa che diciamo nella figura di comunale viene esaltato perché il suo sogno è un sogno molto grande il suo fare è un fare anche molto minuzioso qui a piaretente copiato tranquillamente da colde le cose però io quando sono stato nel suo studio ci siamo conosciuti l'ho conosciuto gli ho portato delle mie opere mi ha fatto anche dei complimenti all'epoca parliamo degli anni 80 degli anni 80 si 70 80 e mi mi fece vedere proprio questa questa superficie di di rete di rete metallica e mi fece vedere come apprendendola a un filo e facendola girare con una luce ti faceva sognare perché dava delle ombre misteriose ma fine fine dell'opera d'arte un gioco quindi questa è la sua grande forza che alla fine diciamo la creazione come dire non è così basta sapere aprire gli occhi ecco per creare bisogna anche sapere aprire gli occhi questo gli invasi il compasso d'oro questo questo nel 71 questo edificio si chiama abitacolo alla già siamo qui vedete qua siamo già in un architettura in una società che ormai che c'è almeno di nibali trionfanti la società del consumo e diciamo lui è progetto un qualcosa che è una specie di casetta dentro la casa dentro la stanza dei 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 ragazzi che gli organizza la vita è un grande organizer è un grande organizer che serve a tutto questo era un progetto rivoluzionario per l'epoca e chiudo chiudo con un qualcosa che anche diciamo sottoscritto anche vissuto prima perso col fatto che a un certo punto nel design italiano cade appare questo discorso radicale della critica politica al alla merce gli anni di fuoco e della contestazione politica dell'architettura e al design giudicati forme di creazione del consenso alla merce all'alienazione del consumismo dilagante specie nel design allora praticamente vedete quel libro di marcus come una dimensione eccetera eccetera cosa succede che qui sarebbe un discorso affascinante ma molto lungo ma detto in supersintesi in supersintesi il design a un certo momento dopo le esperienze del bauhaus dopo le esperienze di urbe dopo le esperienze del mediter dopo esperienze di design internazionale francese inglese americano tutto va giapponese via dicendo praticamente il design si è capito che si era fuso con il suo committente quindi praticamente voi sapete che che in un'opera c'è il diciamo la forma la funzione il significato di quest'opera ma c'è anche il senso dell'opera il senso dell'opera è il lato b del suo del suo destino qual è il destino di un'opera questa è una domanda forte che sono poste ci siamo posti noi come generazione in quegli anni lì qual è il destino di un'opera qual è il destino di un'opera che va a realizzare la quarta macchina familiare perché il consumismo ci aveva questo no ci faceva diventare ci circondavamo di merce allora bisognava avere quattro roggi quattro macchine quattro televisori quattro di tutto quattro ci servivano no servivano a qualcosa no però il sentiment il paradigma la metanarrazione del tempo era era quella quindi praticamente noi circondandoci di cose diventavamo come una di queste cose il design si è fatto complice di questo meccanismo e chiaramente quindi allora diciamo c'è una parte del design almeno ci è scivolata dentro e quindi se movimento che ha diciamo che il movimento di design che erano diciamo grosso modo sono emersi all'inizio degli anni settanta fino agli anni sessanta inizio degli anni settanta diciamo ha riprodotto riproposto questa tematica qua quindi radicalizzando estremizzando diciamo i rapporti critici che hanno generato poi alienazione sofferenza incomunicabilità ecco gli era molto la tematica dell'incomunicabilità no furono anche oggetto di una mostra importante perché al moma di new york nel 1972 ci fu una grande mostra che si chiamava italian new italian domestic landscape dove praticamente tutte queste nuove generazioni di architetture radicali avevano un grosso un grosso una grossa visibilità un grosso peso un grosso ruolo anche se vuoi nel lì nel nell'iperrealismo tecnologico no qua di di gioia colombo no e lì per realismo nel nel sogno tecnologico che era talmente esagerato che diventava come diventava un fumetto poi alla fine insomma no però insomma ecco vedete appunto dei meccanismi di spiazzamento di scala per mutazione proprio tipici un po delle dei giochi dei giochi del linguaggio insomma quindi ecco questo è il divano divano degli archi zoom allora vi saluto con questo pensiero però a cui tengo lo voglio dire è mia convinzione personale che tutte le sorgenti che hanno prodotto poi quello che sarebbe diventato il design italiano made in italy hanno potuto del rapporto con un pensiero profondo che in una sola parola si collegava il fenomeno un fenomeno preciso ma dirompente il sentimento della complessità della vita simbolizzato nei valori plastici e dinamici della città allora appare una città il primo primo il primo slide è una città di sant'elia poi c'è la città razionalista c'è la città di olivetti quindi la città futurista la città razionalista la città metafisica la città olivettiana città rossiana fatta di monumenti una città apocalittica che le avanguardie radicali ma il pensiero del legame tra gli oggetti della vita quotidiana è uno spazio tempo più complesso e riflessivo poiché urbano e collettivo dava al design una forza e una intenzione più libera gli spazi reali o sognati della nuova idea di città hanno comunque liberato quel design dalla coazione del prodotto della sua forma di merce imprimendo a quei prodotti un qualcosa che ancora oggi parla ed è in grado di raccontare qualcosa di sensibile e toccante io credo che una delle strade futura del design italiano anche internazionale ma parlo per il design italiano di recuperare questo rapporto con la città e con la scola grossa scala della comunità della collettiva perché il design si è perfezionato si è specializzato si è super specializzato si è tecnologico ha fatto delle cose meravigliose ma dal mio punto di vista e ve lo lascio come argomento di discussione di dibattito ha completamente perso l'aggancio con quello che era il piano di sopra cioè il livello della complessità della vita e con questo vi ringrazio e chiudo la mia la mia conversazione la mia conferenza